nessuno di noi tornerà indietro esclamarono i 49 arditi compagni andiamo subito a bordo della galera e se il drago ci mangerà a colazione buon pro gli faccia orfeo che soleva mettere tutto in musica cominciò a suonare e a cantare mirabilmente e a tutti quei giovani pareva non ci fosse nel mondo cosa più dilettevole che andare a combattere i draghi e nulla fosse più onorevole che essere divorati in un boccone nella peggiore delle ipotesi dopo questo essendo ora guidati dai principi che conoscevano bene la via gli argonauti ripresero il viaggio allorché eete il re della colchide seppe che i viaggiatori erano arrivati al paese mandò subito a chiamare giasone era un monarca severo dalla faccia cattiva e nonostante l'espressione cortese e ospitale che egli cercò di assumere al giovane eroe non piacque quel sembiante più di quello del malvagio re pelia che aveva detronizzato il padre suo bene arrivato giasone disse il re eete di grazia sei venuto a fare un viaggio di piacere oppure mediti la scoperta di qualche isola sconosciuta o quale altra ragione mi procura la felicità di vederti alla mia corte gran sire rispose il giovanotto con un inchino profondo poiché chirone gli aveva insegnato a comportarsi correttamente tanto coi sovrani come coi mendicanti sono venuto qui con un proposito che con licenza di vostra maestà confido di mettere ad effetto il re pelia che siede sul trono di mio padre al quale non ha maggior diritto che a quello su cui voi ora sedete si è impegnato a scendere dal seggio reale e a consegnarmi la corona e lo scettro purché io gli porti il vello d'oro questo come vostra maestà non ignora e appeso ad un albero qui nella colchide ed io umilmente chiedo il vostro grazioso permesso di portarlo via contro la sua volontà la faccia del re si torse in un cipiglio di collera poiché più di tutte le cose al mondo egli teneva in pregio il vello d'oro e dicevano anche che avesse commesso una cattiva azione per impadronirsene perciò a sentire che il valoroso principe giasone e 49 fra i più bravi guerrieri della grecia erano venuti nel suo paese col proponimento di rapirgli il tesoro divenne di pessimo umore sai tu domandò il re eete guardando severamente giasone quali sono le condizioni a cui devi sottometterti prima di prendere il vello d'oro ho sentito rispose il giovane che un drago è ai piedi dell'albero a cui è appesa la preda e chi si avvicina corre il rischio di essere divorato in un boccone verissimo disse il re con un sorriso poco benigno verissimo caro giovane ma altre cose devi compiere prima di avere il privilegio di essere mangiato dal mostro per esempio devi domare i miei due tori dei piedi e dei polmoni di bronzo che vulcano maniscalco meraviglioso ha fabbricato apposta per me dentro lo stomaco hanno una fornace e dalla bocca e dalle narici esalano un calore così potente che nessun uomo può avvicinarsi ad essi senza essere all'istante bruciato in piccoli carboni neri che dici di ciò mio bravo giovanotto sono preparato ad affrontare i pericoli rispose tranquillamente giasone dopo aver domato i tori feroci continuò il re eete che voleva se possibile spaventare l'eroe devi aggiogarli all'aratro per arare la terra sacra nel campo di marte dove devi seminare i denti del medesimo drago dal quale cadmo fece germogliare una messe di uomini armati sono una setta sregolata di reprobi inati dai denti del drago e ti piomberanno addosso con la spada nel pugno se non li tratterai convenevolmente tu ed i tuoi 49 argonauti mio ardito cavaliere siete poco numerosi e poco forti per combattere l'oste che germoglierà dalla terra il maestro chirone rispose giasone mi insegnò molto tempo fa la storia di cadmo forse io potrò domare i figli requieti dei denti del drago come fece cadmo o se il mostro lo divorasse pensò il re e ete insieme col suo maestro dalle quattro zampe che bell'imbusto sfacciato e presuntoso vedremo ciò che i miei tori sbuffanti fiamme dalle narici faranno per lui e continuò forte e cortesemente come poté sta tranquillo per oggi giovane principe e domattina poiché tu insisti proverai come sei abile a maneggiare l'aratro mentre il re aveva parlato una giovane bellissima ritta dietro il trono fissando gli occhi benevolmente sul giovane straniero era stata ad ascoltare con attenzione quanto i due dicevano e allorché giasone si ritirò dalla presenza del sovrano la donna lo seguì fuori della sala io sono la figlia del re disse e mi chiamo medea so e posso fare un'infinità di cose che le altre giovani principesse ignorano e che avrebbero paura solamente a pensarle se vi fidate di me vi insegnerò a domare i tori feroci a seminare i denti del drago e a conquistare il vello d'oro grazie bella principessa rispose l'eroe se mi farete questo servigio vi sarò riconoscente per tutta la vita ve lo giuro guardandola le vide brillare la faccia di meravigliosa intelligenza era una di quelle persone dagli occhi pieni di mistero e profondi che non ci saziamo mai di guardare poiché pare che debbano rivelare sempre qualche cosa di nuovo se giasone fosse stato pusillanime avrebbe avuto paura di farsi nemica la principessa poiché bella come era e la poteva da un momento all'altro di venire terribile al pari del mostro che stava a guardia del vello d'oro principessa egli esclamò voi sembrate molto saggia e potente ma come potete aiutarmi a fare le cose di cui dite siete forse un'incantatrice sì principe rispose sorridendo medea avete dato nel segno sono un'incantatrice circe sorella di mio padre mi ha insegnato l'arte magica e se volessi potrei dirvi chi era la vecchia col pavone la melagrana e il bastone col cuculo alla quale faceste attraversare il fiume e similmente chi è quella che parla attraverso le labbra dell'immagine di quercia alla prora della vostra galera vedete conosco i vostri segreti e bene per voi che io sia disposta in favor vostro altrimenti non potreste evitare di essere dilaniato dal terribile drago mi importerebbe poco del mostro rispose giasone se sapessi come trattare i tori dei piedi di bronzo e dai polmoni ardenti se siete coraggioso come credo disse medea il vostro animo baldanzoso vi insegnerà che c'è un mezzo solo di comportarsi coi tori furiosi e lascio a voi di scoprirlo nel momento del pericolo riguardo al respiro infuocato degli animali io ho qui un un guento incantato che vi impedirà di scottarvi o vi guarirà se per caso rimaneste un po bruciato e gli mise in mano una scatola dorata spiegando come doveva adoperare la pomata odorosa che conteneva poi gli disse dove si sarebbero ritrovati a mezzanotte coraggio soggiunse e prima dell'alba i tori di bronzo saranno domati il giovanotto l'assicurò che l'animo non gli sarebbe mancato raggiunse poi i compagni e narrò loro ciò che era stato detto tra lui e la principessa avvertendoli di tenersi pronti nel caso gli fosse necessario il loro aiuto allora indicata il nostro eroe trovò la bella medea sulla scala di marmo del palazzo del re essa gli dette un paniere in cui erano i denti del drago che cadmo gli aveva strappati dalle mascelle molto tempo addietro la maga fece scendere al giovanotto la scala del palazzo e per le strade silenziose della città lo menò nelle pasture reali dove stavano i tori dei piedi di bronzo era una notte stellata una luce viva risplendeva nel cielo dalla parte di oriente da cui stava per sorgere la luna entrata nella prateria la principessa si fermò guardandosi attorno eccoli laggiù in quel canto che si riposano e ruminano disse sarà un gran gusto guardarli appena si accorgeranno di voi mio padre tutta la corte non hanno divertimento maggiore che quello di vedere uno straniero tentare di metterli al gioco per conquistare il vello d'oro è una festa nella colchide tutte le volte che avviene un fatto simile per parte mia me la godo immensamente non potete immaginare in che batter d'occhio il respiro infocato delle bestie riduca un giovanotto in un pezzo di carbone siete sicura bella medea siete proprio sicura che l'unguento della scatola dorata sia un rimedio contro le terribili bruciature domandò giasone se avete il più piccolo timore disse la principessa guardandolo in faccia la debole luce delle stelle sarebbe meglio per voi non essere nato piuttosto che avvicinarvi di un passo ai tori ma il nostro eroe si era messo in testa di conquistare il famoso vello e non sarebbe tornato indietro neppure se avesse avuto la certezza di diventare fra poco un pezzo di carbone o un pugno di cenere gli eroi si distinguono in simili cose lasciò dunque la mano di medea e andò avanti con valdanza nella direzione che essa gli aveva indicato allora vide davanti a sé quattro colonne di vapori infuocati che ora apparivano ora svanivano dopo aver rischiarato l'oscurità intorno quelle colonne erano prodotte dal respiro dei tori di bronzo che usciva loro dalle narici mentre stavano ruminando tranquillamente ai primi passi di gesone le quattro colonne di fumo parvero più dense poiché i tori udito un calpestio avevano alzato il naso infuocato per aspirare meglio l'aria il giovanotto si avvicinò ancora un poco e dalla maniera come il vapore rosso scaturiva fuori giudicò che gli animali si erano alzati ora vedeva risplendere scintille e vivi getti di fiamme un altro passo ancora e i tori fecero richeggiare la prateria di un terribile mugito mentre il respiro ardente che mandavano fuori rischiarò tutto il campo di un momentaneo bagliore un altro passo ancora fece l'ardito gesone e incontanente veloci come il fulmine ruggendo come il tuono si fecero avanti le fieri crudeli vomitando alte fiamme che illuminarono tanto la scena che il giovanotto poté discernere le cose più chiaramente che di giorno e con orrore vide le due bestie selvagge galoppare verso di lui con le unghie di bronzo strepitanti e rimbombanti sul terreno e le code alzate in aria come sogliono tenerle i tori in furia il respiro infuocato abbruciava l'erba dove passavano le creature nefaste ed era così rovente che accese mandò in fiamme l'albero presso il quale gesone si era riparato ma a mercello un guento incantato di medea il fuoco lambì soltanto il corpo del giovanotto senza toccarlo come se fosse stato di amianto preso coraggio dal trovarsi illeso l'eroe aspettò di essere assalito dai tori i brutti di bronzo stavano per prendere e gettare in aria gesone allora egli con grande sveltezza ne prese uno per le corna l'altro per la coda e li tenne nel pugno come in una morsa d'acciaio uno con la destra l'altro con la sinistra egli aveva le braccia molto robuste certo ma il segreto è che i tori di bronzo erano incantati e gesone ruppe l'incantesimo della loro ferocia selvaggia col modo animoso di assalirli fin da allora gli uomini coraggiosi quando si trovano davanti ai pericoli seguono il metodo di gesone che è quello di prendere il toro per le corna o di impugnarlo per la coda il che vuol dire mettere da parte la paura e superare il pericolo disprezzandolo era ora facile a giocare i tori e attaccarli all'aratro che da tanti anni giaceva arrugginito sul campo che nessuno poteva arare il nostro eroe aveva forse imparato dal vecchio chirone a fare i solchi e chissà che il maestro stesso non si facesse attaccare all'aratro ad ogni modo il giovanotto riuscì perfettamente ad arare la pianura verde e la luna aveva fatto un quarto di giro nel cielo che il campo arato gli stava d'innanzi un'estensione grande di terreno di colore scuro pronto ad essere seminato coi denti del drago e gesone li sparsi a piene mani quei denti e li spianò con l'erpice e si mise ritto sul limitare del campo a vedere che cosa accadrebbe ci sarà da aspettar molto la stagione del raccolto domandò a medea che gli stava al fianco molto poco che importa fece la principessa una messe di uomini armati germoglia sempre quando sono stati seminati i denti del drago la luna era alta nel cielo e gettava i raggi luminosi sul campo arato dove ancora non si vedeva nulla i contadini dicevano che gesone doveva aspettare settimane settimane prima che i fusti verdi spuntassero dalle zolle e mesi e mesi prima che il grano fosse maturo per la falce ma poco a poco nel campo fu visto qua e là un luccichio come gocce di rugiada scintillanti ai raggi della luna quelle cose lucide germogliarono rapidamente e divennero cime di lance d'acciaio poi un numero infinito di elmi d'ottone bruniti mandarono un bagliore intenso e sotto gli elmi mentre crescevano via via dal suolo apparvero le facce brune di uomini con la barba che si sforzavano di liberarsi dalla terra che li teneva prigionieri il primo sguardo che costoro dettero al mondo fu di cruccio e di diffidenza poi furono viste le corazze lucide dei guerrieri e la spada e la lancia che tenevano nella destra e lo scudo che avevano sul braccio sinistro e quella strana raccolta di esseri era appena uscita dal terreno che cominciò a debattersi con violenza tale era l'impazienza di freno e a strapparsi dalle radici dove un dente del drago era cascato c'era un uomo armato per la battaglia e tutti i soldati facevano un grande schiamazzo cozzando le spade sugli scudi e si guardavano ferocemente poiché erano venuti nel mondo al tranquillo chiaro di luna col cuore colmo di collera e di passioni tempestose pronti a togliere la vita ai fratelli in ricompensa del dono dell'esistenza che avevano ricevuto altri eserciti sono stati più tardi feroci al pari dei guerrieri germogliati dai denti del drago ma se costoro nel campo rischiarato dalla luna erano crudeli non ne avevano colpa poiché non avevano avuto mamme e che fortuna sarebbe stata per un capitano cui la sorte avesse assegnato la conquista del mondo come un alessandro un napoleone il poter suscitare una messe di uomini armati con la facilità toccata a giasone